Choran e le virtù dell'indolenza. In epigrafe mi è piaciuto mettere un aforisma di La Roche Foucault che Choran stesso ha puntato nei suoi cahier. La pigrizia è come una beatitudine dell'anima che la consola di tutte le perdite e tiene in lei il posto di tutti i beni. Prima sezione. Maledizione del lavoro. In principio era l'ozio. La mitologia su questo punto concorda con la grammatica. L'ozium precede il negozio sia dal punto di vista temporale che etimologico essendo il secondo una negazione o derivazione del primo. Così come in greco la scolè è antecedente alla scolia. Che il lavoro sia una sorta di catastrofe più o meno necessaria posteriore alla vita beata degli dèi è una verità su cui le civiltà antiche si trovavano d'accordo. Dalla grande muraglia alle ande l'esecrazione del lavoro era pressoché unanime tanto da essere considerato incompatibile con l'idea stessa di libertà. Percepire un salario in Grecia era addirittura disonorevole per la condizione stessa di cittadino. Platone negava i diritti politici a chi esercitava mestieri degradanti o attività per natura ingannevoli e menzognere come il commercio. La città perfetta sentenza dal canto suo Aristotele non farà dell'operaio un cittadino. Nella Sparta di Licurgo il lavoro manuale era a tal punto disprezzato che si ricopriva di infamia chi come esiodo osava tesserne l'elogio. Non per niente fu soprannominato dai lacedemoni il poeta degli loti. Al di là dei mestieri nobili quali l'agricoltura e le armi la cultura latina aborriva le sordide artes debitamente riservate agli schiavi. Per gli autori della Genesi, Giova a ricordarlo, in seguito alla cacciata dal paradiso il lavoro è diventato addirittura una dannazione divina. Choran non esita a riconoscere che, perlomeno su questo punto, occorre credere alla Bibbia sulla parola. La passione insensata per lo sforzo rimane incomprensibile al di fuori del peccato originale, scrive nella prima versione del Presì. Ciò nonostante, le caste sacerdotali, vedi il libro dei proverbi, smentiranno il loro Dio, trasformando l'anatema in una benedizione, in un segno di divina elezione. Condannando senza rimedio la pigrizia altrui, garantiranno la loro. Il greggio sgobbone dei fedeli, pur di guadagnarsi un salvacondotto per l'eternità, fornirà loro lana e latticini in abbondanza. E ciò, si è detto per inciso, sino ai nostri giorni. Occorreva tuttavia la perversione moderna per elevare l'abominio del lavoro al rango di un diritto, di un dovere etico, se non addirittura di un piacere. Tradendo la vocazione universale dello spirito, l'uomo ha preferito tumularsi nei limiti angusti e avvilenti di una professione. Considerandosi niente di più di ciò che fa, diventando cioè una risorsa tra le tante, si è consegnato, anima e corpo, a processi produttivi impersonali, che finiscono per abbruttirlo irrimedialmente, tanto da renderlo irriconoscibile perfino a se stesso. In una parola è diventato funzionario. Iniziò la sua carriera come imago dei, si avvia a terminarla come fattore produttivo, sottospecie traviata dell'homo economicus. Sostituendosi al vecchio dio, la religione del capitale, sia nella forma privata che collettiva, ha trasformato il mondo in una grande officina, nutrita dalla carne frustrata di miliardi di individui, le cui vite sono scandite e stritolate da quel giano bifronte che è il ciclo produzione-consumo, in grado di divorare sia il tempo lavorativo che i cosiddetti loisir. Per guarire dalla piaga d'essere nati, scrive Cioran, sempre nella prima versione del Presidio, la terra avrebbe dovuto essere un sanatorium, non è che una fabbrica, dove si alimenta la nevrosi della produzione. I nuovi sacerdoti dello sviluppo incondizionato hanno risolto il problema della schiavitù rendendola praticamente universale, mascherandola, ex legge, sotto il principio satanico della dignità del lavoro. Per Cioran si tratta di chiamare le cose con il loro nome. Fintanto che l'operaio lavora più di tre ore al giorno, sarà uno schiavo, quale che sia il regime in cui vive, fosse anche quello dei suoi sogni. In altre parole, quando a vari livelli tutti sono asserviti, nessuno più si rende conto di esserlo. Ognuno percepisce solo le differenze di grado, rimanendo cieco rispetto a quelle essenziali, come quelle tra libertà e servitù. Con precoce lucidità e straordinaria concisione, nel suo primo libro rumeno Cioran condensa tutta la parabola dell'umana miseria in poche parole. Il lavoro, una maledizione che l'uomo ha trasformato in volutà. Sezione seconda. L'uomo più sfaccendato di Parigi. Al di là di tutto, il vero capolavoro di Cioran è stata la sua vita. Sopravvivere senza rendita, senza lavoro a Parigi, nel secolo dell'occupazione obbligatoria, è già di per sé un mezzo miracolo, un'impresa eroica che meriterebbe da sola una gloria in pieritura. Ultimo esemplare di quel sole al tramonto, che è stato il dendi ottocentesco, Cioran fu uno dei pochi ad aver praticato sul campo la libertà come affrancamento dal lavoro. Inteso questo, sono parole sue, come ogni sforzo esente da piacere, o piuttosto uno sforzo che vi sminuisce ai vostri occhi. Questa è tratta da ICAIE. Approdata a Parigi nel 1937, grazie ad una borsa di studio dell'Istituto francese di Bucharest, per preparare una tesi su Bergson, Cioran fece voto di inefficacia, dandosi un unico imperativo. Occorre fare di tutto, tranne lavorare. Disertò le lezioni alla Sorbonne, preferendo al clima claustrale dell'ambiente universitario, la vita all'aria aperta, disimpegnata, insomma una vita da Bohème. Risalgono a quel periodo i suoi leggendari viaggi en vélo, alla scoperta della provincia francese. Tra ostelli della gioventù e conversazione estemporanea con i contadini ed operai, Cioran conobbe l'altra faccia della Francia, quella popolare, non parigina. Nel periodo in cui partivo in bicicletta per dei mesi attraverso la Francia, il mio più grande piacere era di fermarmi nei cimiteri di campagna, di stendermi tra le tombe e fumare così per delle ore. Vi ripenso come all'epoca più attiva della mia vita. Il risultato dell'insolito Tour de France fu che non scrisse una sola riga della sua tesi. In compenso, aveva acquisito come pochi altri una comprensione autentica, non libresca, della cultura francese. Il fatto di essersi messo la Francia nelle gambe, più che nella testa, gli valse tuttavia l'attestazione di stima del direttore dell'Istituto Francese di Bucharest, lo storico Alphonse Dupont, che decise di prolungargli il vitalizio di studio fino al 1944. Ciorano era disposta ad accettare qualsiasi privazione, persino la povertà se necessario, pur di non essere costretto a vivere e soprattutto a scrivere come non avrebbe mai voluto. È detto nello Chuanzea, povertà non è miseria. Quando un letterato non può mettere in pratica la sua dottrina, questa è miseria. Con il vestito rappezzato e le scarpe bucate, egli è povero, ma non è miserabia. Ciò significa soltanto che i tempi non gli sono stati propizi. I tempi non propizi significarono per Choran usufruire fino a 40 anni delle menze universitarie, barattare la sua capacità di intrattenimento con la generosa ospitalità degli amici. Se fossi d'indole taciturna, sarei morto di fame da parecchio tempo, scrive ai genitori nel 1946. Insomma, vivere despedienti, col rischio di sprofondare da un momento all'altro nell'indigenza, era il prezzo che era disposto a pagare pur di garantirsi un'esistenza libera. Eppure, quanta più dignità c'è in una simile vita, se paragonata ad esempio a quella degli impiegati parigini? Scimmie indaffarate, indegna progeni dei loro indolenti antenati, consulti dalla vanità e dall'insulsaggine delle loro occupazioni? Tutto ciò che l'uomo fa mi appare artificiale ed inutile. Solo l'animale trova grazie a miei occhi. Che assurdità quella di una scimmia che va in ufficio. Confinarsi in una stanza, mettersi al proprio tavolo di lavoro, restarvi per delle ore. No, l'ultima delle bestie è più vicino alla verità dell'uomo. E quando penso a questa maledetta razza di funzionari che impiegano le loro giornate ad occuparsi di cose che non li riguardano, che non hanno niente in comune con i loro pensieri e il loro stesso essere. Nella vita moderna nessuno fa ciò che dovrebbe fare, soprattutto ciò che desidererebbe fare. Questa è tratta dei Cahiers, questa citazione. Il carattere distintivo del dandy, secondo Baudelaire, è quello di non far nulla, di essere assolutamente inutile. Solo così, infatti, può preservarsi dalla volgarità insita in una funzione in quanto tale, in ogni mestiere che, fatalmente, obbliga a perseguire uno scopo altro da ciò che si è, mentre il vero artista non esce mai da se stesso. La prostituzione, lungi dall'essere un mestiere tra i tanti, si rivela quindi come l'essenza stessa del lavoro. Il termine porné, con cui i greci appellavano la prostituta di basso rango, etimologicamente deriva da pernemi, io vendo, appunto, le prestazioni del corpo in cambio di denaro. Ora, questa definizione sembra coincidere con quella di salariato che da Aristotele arriva fino al proletario di Marx, colui che, privato di tutto, fuorché delle proprie braccia, vende sul mercato la forza lavoro di cui dispone, in cambio del diritto a sopravvivere. Tanto calzante l'accostamento che Cioran stesso, in un'intervista a François Bondy, dopo essersi definito l'homme le plus désouvré de Paris, aggiunge, solo una prostituta senza clienti è più pigra di me. In proposito, nei cahiers, racconta le avvilenti visite all'editore Gallimard, quando ancora era uno scrittore senza lettori, i cui libri invenduti erano destinati al macero. Agli impiegati doveva ripetere il proprio nome perché nessuno lo conosceva. Quando infine si presentava agli uffici direzionali, si sentiva come una puttana che nessuno monta più, tanto da evitare lo sguardo del tenutario del bordello, nella fattispecie Claude Gallimard. Alla moglie dello scrittore Ernst Junger, che candidamente gli chiese da quale fonte traesse il proprio sostentamento, Cioran rispose in modo provocatorio che ormai si era adattato a vivere come un macereux, un magnaccio, un pappone, intendendo con ciò che l'unica a portare a casa uno stipendio, sicuro, era la compagna Simone Bue, insegnante d'inglese a liceo e provvidenziale finanziatrice della sua scioperataggine. Tuttavia Simone, modestamente, ha sempre sminuito il suo ruolo, rimarcando che senza di lei Cioran se la sarebbe cavata comunque. Se la vita, questo compromettersi con le vicissitudini di un corpo, richiede già di per sé una predisposizione innata al marciapiede, il lavoro non fa che aggiungervi a una degradazione ulteriore. La caduta in un circolo vizioso dove la fatica, necessaria a garantire le condizioni minime d'esistenza, finisce per confondersi con la vita stessa. Il fare, esente da piacere, diventa godimento. Un desiderio malzano, perverso, si aggira per il mondo. È il desiderio di lavorare. Il demone del rendimento, scrive Cioran, ha preso possesso del globo. È il regno dell'isteria dei muscoli, supremo compimento della caduta. Tutti corrono, si precipitano, ansimano. Nessuno ha più tempo per vivere né per morire. Produrre, verbo della mitologia quotidiana, che deve far morire di gioia, il diavolo, patrono dell'azione.